E' arrivato l'epidolo del match, ce l'hanno fatta, dopo la vittoria odiena sono i campioni, possono festeggiare, grande spirito di squadra, un momento bellissimo E alla fine possono indossare la corona dei campioni, si sono dimostrati la milione squadra nel corso di una difficile stagione E ora possono giustamente festeggiare una vittoria assolutamente meritata Grazie Grazie Grazie